E buonasera a tutti. Allora, ci alziamo e incominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La nostra preghiera di questa sera semplicemente è un fare nostro. Il testo di Efesini, che trovate lì nel foglio, capitolo primo, versetti 3, 10. È un ringraziare a Dio, un benedire a Dio per quanto ci ha dato, soprattutto per il dono di Gesù. Lo facciamo insieme e poi al termine concluderemo con gloria. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immaculati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, al jode dello splendore della Sua grazia. Di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito San, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Voi sapete che stiamo vivendo il momento della novena, della festa dell'Immacolata. E proprio per questo chiediamo alla Vergine Maria, che è la piena di grazia, e di invocare per tutti noi lo Spirito di Gesù. Perché possiamo anche questa sera ascoltare quanto Dio ha da dirci e godirne nel nostro cuore. Ave, o Maria, e la di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, frate e donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amo. Ecco che siamo arrivati al nostro terzo e ultimo incontro per la formazione dei catechisti della nostra zona. Ricordate che il primo incontro ci ha sollecitati a concentrarci con le prime due parole del credo, io credo. Abbiamo cercato di capire che cosa significa esattamente credere. Nel secondo incontro ci siamo invece soffermati sulla struttura generale del credo. E credo in un solo Dio. E abbiamo precisato che crediamo in un solo Dio, ma non in un Dio solo. Perché il nostro Dio non è solo, non è un Dio solitario, ma è comunione d'amore. E la relazione perfetta dell'amore che equivale a dire è Trinità. L'abbiamo visto la volta scorsa. Questa sera ci concentriamo invece su quell'aspetto del credo. Voi capite che non si può in tre incontri fare tutto il credo. Ovviamente ho fatto una scelta. Dopo non so se l'anno prossimo ci saranno ancora questi incontri, e si potrà eventualmente prendere o riprendere il credo completando altri aspetti. Proprio per il terzo incontro ho ritenuto opportuno, visto che oltretutto stiamo preparandoci al Natale, ho ritenuto opportuno e di concentrarci su questo aspetto del credo, che dice «Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio». Poi saltiamo «Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo». È esattamente il mistero del Natale. Ora, certamente noi crediamo, se siamo credenti in Cristo, noi crediamo che effettivamente in Cristo Dio si è fatto uomo e si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo. D'altra parte però, proprio la Vergine Maria ci invita a far sì che la nostra fede non sia una fede, permettete l'espressione, una fede cieca. Perché secondo qualcuno l'ideale della fede sarebbe quello di una fede cieca. Io credo ciecamente. Ecco, sappiate che da un punto di vista cristiano non è per niente vero che dobbiamo credere ciecamente, ma dobbiamo credere intelligentemente. nel senso che anche nella professione di fede dobbiamo aderire con tutto noi stessi e affidarci con tutto noi stessi a Dio. E noi non siamo fatti soltanto di sentimento, siamo fatti anche di intelligenza, siamo fatti di volontà e quindi con tutto noi stessi dobbiamo credere. una fede cieca attenti bene che nonostante quello che si dica è poco cristiana e oltretutto permette che si profili all'orizzonte qualche forma di fondamentalismo. Il fondamentalismo è cieco perché non ragiona. Perché nel momento in cui il fondamentalista ragiona non è più fondamentalista. ora vi dicevo che è proprio la Vergine Maria che ci invita ad avere una fede di questo tipo. Voi sapete che la cugina Elisabetta saluta la Vergine Maria quando lei va ad incontrarla beata con lei che ha creduto. Ma in realtà la fede di Maria non è una fede cieca. per il fatto e lo sentiremo proprio nel Vangelo di domenica prossima l'otto dicembre allora che l'angelo le dice di saluto o piena di grazia e l'Evangelista fa questa precisazione Nehi rimase turbata e si chiedeva che cosa significasse quel saluto. cosa volesse dire quel saluto. Abbiamo a che fare con la vera credenza Maria ma ci accorgiamo che la fede di Maria fa spazio al domandarsi che senso ha. E oltretutto ecco che quando l'angelo le dice che diventerà la madre di Gesù e lei dice ma aiutami a capire com'è che avverrà questo. Chiedete bene non è dubitativo nel senso che dubita che possa avvenire ma si chiede o meglio chiede all'angelo di capire come questo avviene perché lei si possa inserire in questo segno di Dio senza rovinarlo però per inserirti adeguatamente devi capire qualche cosa per questo chiede come avverrà questo dal momento è che io non ho rapporti sessuali io non conosco uomo allora com'è che avviene questa nascita ecco qui abbiamo a che fare con una fede autentica ma una fede che potremmo dire non è infantile è una fede matura che fa spazio alla domanda che senso ha che equivale attenti bene fondamentalmente a dire perché perché mi dici che sono piena di grazia ecco quello che vorremmo fare diciamo così questa sera è essenzialmente è proprio l'accettare che noi crediamo che in Gesù Dio si è fatto uomo ma nello stesso tempo ci chiediamo che senso ha questo avvenimento qual è il senso dell'incarnazione ho detto in altri termini ma con lo stesso significato perché in Gesù Dio si è fatto uomo prenderemo in considerazione innanzitutto alcune risposte innanzitutto la risposta del credo qual è la risposta del credo dice per noi uomini e per la nostra salvezza quindi perché Dio si è fatto uomo per noi uomini e per la nostra salvezza ora certo questo è già molto significativo per il fatto che fa capire che di per sé Dio non l'ha fatto per se stesso ma l'ha fatto per noi e quindi l'incarnazione è un gesto d'amore di un Dio che si è preso a cuore la situazione dell'uomo detto in altri termini ancora Dio non aveva bisogno dell'incarnazione ne avevamo bisogno noi non è che Dio diventi più Dio perché si incarna Dio è già perfetto se si è incarnato è per noi uomini e avete notato che poi aggiunge è per la nostra salvezza e in realtà però termine salvezza è più ampio di quanto non pensassimo ci sono nella sacra scrittura tanto nell'antico quanto nel nuovo testamento alcuni termini che per certi versi sono un po' onnicomprensivi ad esempio quando si dice la pace no Dio dice al suo popolo oppure la benedizione di Aronne Signore vi doni la sua pace la pace tende bene che non è l'assenza di guerra lì c'è dentro la somma di tutti i beni che Dio può dare all'uomo ecco qualcosa di simile è anche il concetto di salvezza però voi capite che da questo punto di vista il concetto di salvezza che è vero che è importante è ancora abbastanza permettete generico ha bisogno di essere ulteriormente precisato cosa significa cioè è che Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza allora proviamo a sentire voi allora lasciate aprire per un momento il concetto di salvezza secondo voi perché in Gesù Dio si è fatto uomo provate a pensarci un attimo poi cominciamo a sentire qualcuno ok vedo che perché anche lui vuol provare la vicenda umana non non ci lascia soli vuole essere tra noi e condurre proprio la vita dell'uomo provare quello che noi proviamo perché Dio non poteva provarlo ho capito ma adesso io potrei aggiungere e perché lo vuole provare ci ama va bene perché ci ama perché per salvarci ha voluto avvicinarsi a noi come uomo scusa quando dici salvarci salvarci da che cosa dal peccato dal peccato altre ha voluto condividere ha voluto condividere con noi come perché voleva anche lui provare vedere ma proprio anche perché lui che era Dio ha voluto anche lui farsi uomo come noi sì ho capito però ripeto non risolve il problema che nasce la domanda perché sono d'accordo voleva provare tutto come uomo e voleva poi vincere la morte cioè voleva provare tutto secondo me ad esempio qui si dice per il peccato per liberarci dal peccato per vincere la morte io penso per mostrarci che anche come come persone ci ha mostrato come si doveva fare per salvarsi praticamente cioè lui ha passato quello che noi dovremmo passare per salvarci e ci ha mostrato che non è impossibile umanamente penso per la salvezza qui sentiamo che invece si è incarnato per diventare un po' l'esemplare dell'essere uomo fondamentalmente o dell'uomo salvato ho interpretato giusto mostrarci che era possibile umanamente vivere per la par condicio c'è anche il corno sinistro cosa dice il corno sinistro no c'è qualcuno che vuole aggiungere no confermate quello destro la terza anche io la penso come il signore che ha appena detto per farci vedere per essere lui esempio in modo che noi potessimo provare a seguirlo provare a vivere come lui ok basta così per il momento innanzitutto vi siete accorti che anche semplicemente da questo piccolo e fugace confronto saltano fuori saltano fuori i pareri un po' diversi o non sto dicendo siano sbagliati ho detto che sono diversi allora io vi posso dire qual è la risposta maggiormente diffusa alla domanda perché in Cristo Dio si è fatto uomo perché l'incarnazione per liberarci dal peccato cioè esattamente per quello che noi chiamiamo la redenzione e cioè in altri termini si ragiona così ecco che Dio ha creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita ma l'uomo ha peccato e allora per far sì che l'uomo potesse raggiungere lo scopo per cui Dio l'ha creato ecco che ha mandato il suo figlio a liberarci dal peccato e condurci alla meta perché per noi era diventato impossibile a causa del peccato ora ripeto questo è lo schema di pensiero maggiormente diffuso e oltretutto ecco che approssimativamente secondo questa prospettiva ha scritto una delle sue opere fondamentali anche Sant'Anselmo infatti ha scritto un'opera Sant'Anselmo d'Aosta esattamente nel 1098 ha scritto un'opera intitolata cur Deus uomo che tradotto perché Dio si è fatto uomo perché Dio si è fatto uomo vedete che quindi la nostra domanda è antica non l'abbiamo incominciata noi va bene e Sant'Anselmo fondamentalmente risponde così Dio si è fatto uomo per redimerci dal peccato poi fa tutto un ragionamento che sotto certi aspetti è anche un po' discutibile per il fatto che mostra un Dio che ha bisogno di qualcuno che comunque in qualche maniera riscatti la situazione dell'uomo ma dal momento che il peccato offende un Dio che è infinito soltanto un Dio infinito può farsi carico di un'opera di questo tipo e allora appunto manda il suo figlio per fare questa opera di redenzione di riconciliazione ora innanzitutto questa risposta attenti bene che non è sbagliata ed è certamente presente anche nel Nuovo Testamento lo vedremo e ha in sé qualcosa di molto significativo nei confronti di Dio perché il fatto che Dio si sia fatto uomo per venire a liberarci dal peccato mette ancora di più in mostra la grandezza dell'amore di Dio perché appunto mentre noi eravamo peccatori nemici ecco che lui viene proprio incontro a noi non è venuto incontro a noi non si è fatto uomo perché lo meritavamo anzi meritavamo esattamente il contrario quindi attenti bene che questa prospettiva non fa che esaltare la grandezza la gratuità dell'amore di Dio non lo ha fatto perché lo meritavamo ma lo ha fatto perché lui è amore e ci vuole bene e non vuole perderci certo dopo dovremmo anche domandarci però in che modo Gesù Cristo ci ha retenti ci ha riconciliati anche se non è specificamente il tema di questa sera però attenti bene che nel Nuovo Testamento c'è questa duplice linea di pensiero molto fugacemente ve lo dico innanzitutto ecco che Gesù Cristo ha potuto riconciliare i due che si erano per colpa dell'uomo allontanati per il fatto che lui ha unito nella sua stessa persona Dio e uomo i due che erano lontani si sono uniti in lui e quindi lui è il Dio che si offre all'uomo ma è anche all'uomo che accetta di nuovo avvicinarsi a Dio in Cristo la riconciliazione è già stata fatta nella sua persona e quindi ecco che siccome lo ha fatto per noi ha reso possibile anche per tutti gli uomini la possibilità di incontrarsi di nuovo con Dio l'altra l'altra prospettiva ragiona un po' in questi termini è un po' più difficile ma mi pare che sia anche questo significativo c'è la percezione che il peccato è una realtà che ha una sua consistenza è quasi personificato oggettivato cioè quando c'è il peccato nel mondo c'è questa realtà che ci pesa addosso e finché c'è qualcuno che è capace di farsene carico di portarla via continuerà a pesarci addosso ecco Cristo ha fatto questo ha lasciato è che il peccato con tutta la sua virulenza con tutta la sua negatività con tutta la sua forza di perdizione si scaraventasse su di lui guarda che da questo punto di vista è molto significativo già la scena è molto significativo il battesimo di Gesù per il fatto che già i primi cristiani si erano chiesti ma perché Gesù si è fatto battezzare visto che non aveva peccato e il modo in cui è descritta la scena del battesimo è dalla risposta lui si è fatto carico non perché avesse peccato ma perché ha voluto farsi solidale con noi peccatori e si è fatto carico dei nostri peccati quindi si è fatto battezzare come addirittura dice l'Apostolo Paolo colui che si è fatto peccato per noi e cioè è stato talmente investito coperto dal peccato dell'uomo che guardandolo l'Apostolo Paolo dice questo è il peccato guardando Gesù dice questo è colui che si è fatto peccato è tutto peccato non perché ha peccato lui personalmente ma perché si è caricato di questo male che pensava come un macigno su di noi e così ci ha liberati ora tutto questo certamente è molto significativo e quindi dobbiamo dire che certamente Gesù Cristo si è fatto uomo anche per liberarci dal peccato nello stesso tempo però ecco che c'è qualcosa che non funziona in questa prima risposta tendi bene la domanda è perché Dio si è fatto uomo in Gesù prima risposta per liberarci dal peccato quella più diffusa ora ripeto questa risposta che è anche vera però mostra un lato molto problematico e ce lo fa capire immediatamente il testo che avete tra le mani della Lettra ai Colossesi capitolo primo e in pratica il secondo testo c'è ancora qualche foglio là in fondo per il fatto che qui davanti no sono finite basta adesso guarda che te lo passi uno così guardate in due lì lì guarda che c'è lì dietro scusate ecco attenti bene Colossesi capitolo primo ringraziate con gioia voi sapete che questo lo recitiamo anche al vespro ad esempio delle mercoledì alla mercoledì sera ovviamente questa sera abbiamo recitato questo inno ai Colossesi anche se ringraziamo con gioia il padre e che vi aresi partecipi di partecipare alla sorta dei santi nella luce poi dice è lui è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre trasferiti nel regno del figlio del suo amore per mezzo del quale abbiamo la retenzione il perdono dei peccati egli o attenti bene che il soggetto è appunto il figlio del suo amore cioè è Gesù d'accordo quindi con far riferimento a egli è ripeto Gesù egli è immagine del Dio invisibile primo genito di tutta la creazione perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra quelle visibili e quelle invisibili tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono egli è anche il capo del corpo della chiesa egli è principio primo genito di quelli che risorgono dai morti perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose è piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui in vista di lui siano riconciliate tutte le cose avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli allora indubbiamente questo testo dice che Gesù ha compiuto la redenzione la riconciliazione però avete notato che nel versetto 20 la redenzione dal peccato la riconciliazione a causa del peccato più che in rapporto all'incarnazione è messo in rapporto a che cosa alla croce avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli tenete presente questa cosa perché poi ci serve avrete notato invece da quello che mi interessa di più in questo momento l'insistenza dell'autore sul fatto che Gesù viene prima di tutte le cose perché dice al versetto 18 perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose e cioè nel disegno di Dio Gesù gode di un primato cosa vuol dire primato vuol dire che viene prima del resto nella intenzione del progetto di Dio ora voi capite che esattamente nello schema è che soggiace alla domanda Dio si è fatto uomo per redimerci dal peccato allora la sequenza è questa creazione peccato incarnazione e che vuol dire Gesù Cristo attendimene che si parla di Gesù Cristo non si sta parlando del verbo non si sta parlando del figlio eterno si sta parlando di Gesù Cristo e quando si parla di Gesù Cristo vuol dire esattamente colui che si è fatto uomo è importante questa distinzione perché voi capite che questa distinzione la fa molto chiaramente anche il prologo del Vangelo di Giovanni in principio era il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era Dio e poi dice e il verbo si è fatto carne e qui nasce Gesù prima prima si chiama verbo prima si chiama figlio di Dio figlio eterno di Dio e a partire dall'incarnazione si chiama Gesù che è il figlio di Dio fatto uomo è il verbo di Dio fatto uomo però che si chiama Gesù ora qui si continuamente quando dice egli in lui per mezzo di lui in vista di lui si fa sempre riferimento a Gesù Cristo ora il testo della lettra ai Colossesi dice che nel progetto di Dio quindi all'inizio che cosa ci sta progetto di Dio ora in questo progetto di Dio c'è qualcosa che è esattamente colui a cui Dio pensa quando mette in campo il progetto in questo senso deve godere del primato assoluto perché sta prima di tutte le cose per aiutarvi a capire un esempio molto banale se io voglio costruire un monumento a Garibaldi non è che costruisco immediatamente la statua di Garibaldi a cavallo ma incomincio mettendo mettendo le fondamenta il basamento e da ultimo salta fuori la statua di Garibaldi dico così allora da un punto di vista diciamo della esecuzione la statua di Garibaldi arriva per ultimo ma dal punto di vista della intenzione di chi ha fatto il progetto tutto il resto è stato fatto in vista quindi la prima cosa quello che interessa prima di tutto quello che interessa più di tutto è che sta all'origine di tutto è la statua di Garibaldi anche se storicamente da un punto di vista dell'esecuzione è venuta dopo ora l'Apostolo Paolo dice così anche se Gesù è venuto ad un certo punto della storia quindi prima c'è stato una storia molto lunga però in realtà nel progetto di Dio il primato spetta a Gesù e quindi in questo senso viene prima di tutte le cose tutte le altre cose sono state scritte sono state fatte in vista di Lui ora io vorrei domandarvi e in questa prima risposta secondo esattamente questo schema è rispettato il primato di Gesù Cristo su tutte le cose o prima di Gesù Cristo avviene qualcosa d'altro forse non mi sono spiegato se effettivamente l'incarnazione è la conseguenza del peccato non è più la prima cosa ma la prima cosa paradossalmente è la creazione del peccato voi capite quindi che quel modello non funziona del tutto l'Apostolo Paolo dice guardate che non va mica bene se raggiudiamo in quei termini e allora ecco che dobbiamo rivedere il modello e per rivedere il modello dobbiamo renderci conto che Gesù Cristo certo si è caricato dal ruolo di Redentore ma Gesù Cristo ecco che prima di tutto secondo questa prospettiva è esattamente quello che ci diceva la lettera agli effesini che abbiamo pregato prima allora prendete il primo testo vedete che dice benedetto scusate benedetto Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo in Lui qui non ci sono dubbi quel Lui è Gesù Cristo in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi immacolati di fronte a Lui nella carità predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo e poi andiamo avanti secondo il disegno d'amore della sua volontà poi il versetto 7 dice in Lui mediante il suo sangue abbiamo la redenzione il perdono delle colpe secondo la ricchezza della sua grazia e avete notato che ancora una volta la redenzione è collegata al sangue alla croce più che all'incarnazione fa riferimento al sangue e dopo dice al versetto 9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà e attende bene che il mistero della sua volontà equivale proprio al progetto di Dio cos'è il mistero della sua volontà è il piano o progetto di Dio e il piano progetto di Dio in che cosa consiste? vedete dopo i due punti che è spiegato ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose quelle nel cielo e quelle sulla terra allora secondo questo progetto di Dio quello che lì viene quello che lì chiama il mistero della sua volontà secondo il progetto di Dio ecco che Dio crea Dio crea l'uomo secondo un progetto di viene chiamato di predestinazione predestinandoci a essere suoi figli ma poi aggiunge per opera di Gesù Cristo non ci ha predestinato diventare suoi figli punto e basta ma ci ha predestinato diventare suoi figli per opera di Gesù Cristo quindi vuol dire che quando Dio ha creato l'uomo ha pensato per lui prima che ancora l'uomo ci fosse prima che ancora l'uomo lo meritasse questo destino meraviglioso per questo si chiama predestinazione perché questo destino è stato pensato da Dio ci ha regalato da Dio prima ancora che noi ci fossimo predestinazione ma attenti bene che questo destino è esattamente quello di diventare figli ma non diventare figli di Dio senza Gesù Cristo ma per opera di Gesù Cristo che vuol dire in pratica nel momento stesso in cui Dio ha deciso di creare ecco che ancora prima ha deciso che Cristo fosse colui che fa sì che l'uomo creato diventi figlio di Dio e avete notato che qui di per sé non c'entra il peccato perché non c'è ancora il peccato stiamo ancora parlando a livello di progetto originario di Dio quindi qui dovremmo dire perché Dio si è fatto uomo non da questo punto di vista per edimerci dal peccato ma per far sì che l'uomo diventi figlio di Dio per far sì che l'uomo diventi figlio di Dio perché attenti bene di figli di Dio ce n'è uno solo e di fatto si dice unigenito nella sua bontà però Dio ha voluto non tenere per sé la sua vita divina ma ha desiderato far sì che tutti gli uomini partecipassero dalla sua paternità ma per far questo ecco che allora ha voluto che il suo figlio venisse da noi per portarci e rendere possibile questo che per noi non è possibile diventare figli di Dio per questo l'Apostolo Paolo dice grazie a Gesù Cristo cos'è che siamo diventati eh questa bellissima espressione figli nel figlio ecco diventati figli nel figlio cioè in Gesù perché noi non potevamo diventare figli ora capite che in questa seconda prospettiva è garantito il primato di Cristo perché allorché Dio decide di creare ecco che immediatamente crea in vista di Cristo è la statua di Garibaldi è Gesù Cristo poi ha fatto tutto il resto ma in vista di Cristo e qui troviamo l'altra immagine del versetto scusate versetto 10 ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose quelle nei cieli come quella della terra allora ecco che Gesù Cristo o meglio il figlio di Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo per far sì che tutte le cose e tutte le creature e tutti gli uomini in lui potessero raggiungere esattamente il loro il loro compimento allora il testo il testo greco corrispondente a questo ricondurre al Cristo unico capo Anachephalaiosis è di per sé nella vecchia traduzione ha tradotto con ricapitolare il segno di ricapitolare in Cristo tutte le cose usava questa traduzione adesso ha preferito dire ricondurre al Cristo unico capo che però c'è sempre dentro il concetto del capo ricapitolare cioè che cosa vuol dire è che nel progetto di Dio il compito del figlio di Dio fatto uomo Gesù Cristo è proprio quello come indica il concetto del ricapitolare è quello di prendere in mano come una specie di fare una sintesi di tutte le cose e portarle alla loro realizzazione ora tutto questo cosa meravigliosa attenzione che nel progetto di Dio indipendentemente dal peccato non abbiamo ancora parlato di peccato e cioè in altri termini non è è che Dio ci ha creato per qualche scopo diverso rispetto a renderci figli di Dio poi siccome l'uomo ha peccato lo ci manda il figlio per farci figli no non è così perché se fosse così l'incarnazione dipende dal peccato paradossalmente che cosa provoca l'incarnazione non il progetto originario di Dio ma paradossalmente lo avrebbe provocato il peccato e allora e allora se ne va a farsi benedire tutto il primato di Cristo va bene? adesso lo vediamo proprio questa cosa sulla felice colpa e chiedo scusa ci siamo fino a qui perché guardate che è importante allora in pratica io vi ho fatto vedere alla domanda perché perché Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo la risposta nella mentalità diffusa per redimerci dal peccato la seconda prospettiva che ci suggerisce la lettera agli Efesini è come risposta alle esigenze di mantenere il primato assoluto di Cristo che deve venire prima di tutto perché tutto è stato fatto in vista di Lui e che invece ecco che l'incarnazione rientra nel progetto originario di Dio perché in Cristo gli uomini potessero diventare figli di Dio e potessero trovare il loro compimento la loro piena realizzazione voi capite che non è la stessa cosa poi vedremo oltretutto quali sono le implicanze a questo punto ci chiediamo a questo punto ci chiediamo ma allora in che senso si può parlare di felice colpa no no calma perché no no non sto non sto facendoti ripetere e cioè allora in questo progetto originario di Dio che la lettera degli effesini ci ha presentato che cosa ha provocato il peccato dell'uomo allora il peccato dell'uomo non ha cambiato il progetto di Dio che rimane è sempre quello il progetto scusate il peccato ha fatto cambiare la modalità di realizzazione del progetto nel senso che colui che doveva farsi carico per far sì che l'uomo diventasse figlio di Dio e raggiungesse appunto mediante lui il pieno compimento di sé ha dovuto farsi carico anche della redenzione del peccato ed ecco la morte la morte in croce quindi non si può negare ecco perché l'Apostolo Paolo quando parla di redenzione del peccato fa sempre riferimento al sangue alla croce cioè la croce è la modalità con la quale il figlio di Dio fatto uomo ha portato a compimento il progetto di Dio ma passando attraverso anche la redenzione dal peccato perché allora però si può parlare di felice colpa altrimenti non perché è la colpa dell'uomo che ha provocato l'incarnazione ma perché la colpa dell'uomo è stata utilizzata da Dio per rivellare nella forma suprema all'uomo e che non si fidava più dell'amore di Dio ecco Adamo e Eva tantimene che il peccato è d'Amo e Eva e non fidarsi più di Dio perché perché il il serpente dice a Eva e poi tramite lei ad Adamo dice guarda che non è vero se voi mangiate dell'albero morirete anzi Dio sa che il giorno in cui voi mangiaste di questo albero diventereste come Dio e a questo punto Adamo e Eva cominciano ma vuoi vedere che allora Dio ci ha dato quel comando non perché ci vuole bene ma perché ci vuole male perché è geloso delle sue prerogative e attenti bene quindi che il peccato nasce dal fatto che Adamo e Eva non si fidano più di questo Dio perché perché il serpente ha inoculato questo sospetto che forse Dio ha dato quel comando non perché vuole bene all'uomo come fa una mamma che dice al suo figlio non toccare il coltello da un comando ma piuttosto perché gli vuole male cioè non vuole che l'uomo sia pienamente felice che sia pienamente sapiente no ma piuttosto che bisogna tenerlo un po' schiacciato solo Dio deve godere pienamente e allora di fronte a una umanità che si trova in questo stato di non più fiducia nell'amore di Dio ecco che il dover si fa ricarico del peccato dell'uomo con la morte in croce paradossalmente ha manifestato la grandezza suprema insuperabile dell'amore di Dio quindi è rivelato il vero volto di Dio per questo è una felice colpa ma te di bene che non è la colpa dell'uomo che provoca l'incarnazione è la colpa dell'uomo che provoca la morte di Cristo la croce quello sì ma non l'incarnazione perché l'incarnazione ripeto rientra nel progetto originario di Dio mentre invece non rientra nel progetto originario di Dio la morte anche perché voi sapete che la morte è legata al peccato nella creazione di Dio di per sé non era prevista la morte almeno come la sperimentiamo noi se permetti concludo no no poi vi lascio a questo punto possiamo giungere diciamo così alla alla conclusione allora che differenza c'è tra la prima risposta e la seconda risposta per quanto riguarda le implicanze che toccano l'uomo che toccano la persona umana quindi che toccano noi che differenza c'è cioè quali conseguenze permettete la parola grossa antropologica cioè relative all'uomo e ne derivano dalla prima prospettiva e dalla seconda prospettiva allora nella prima prospettiva perché l'uomo ha bisogno di Cristo nella prima prospettiva perché l'uomo ha bisogno di Cristo no nella prima prospettiva perché l'uomo ha bisogno di Cristo perché è peccatore quindi l'uomo ha bisogno di Cristo perché è peccatore Mentre invece, nella seconda prospettiva, perché l'uomo ha bisogno di Cristo? Per poter diventare autenticamente se stesso. Quindi attenti bene, noi abbiamo bisogno di Cristo non perché semplicemente siamo peccatori, ma per poter diventare autenticamente uomini, per realizzarci come uomini. Quindi abbiamo bisogno, attenti bene, per realizzarci come uomini secondo il progetto di Dio. Perché se noi diciamo secondo il progetto dell'uomo, uno dice, beh l'uomo è realizzato quando ha 100 milioni in banca. Questo è il nostro progetto. Ma il progetto di Dio è che l'uomo è realizzato quando realizza pienamente l'essere diventato in Cristo figlio di Dio. E quindi quando ha realizzato questa sua identità, ecco che l'uomo è compiuto, realizzato, perfetto. E questo è il paradiso. Guardate che non è una differenza da poco. Uno dice, beh però adesso di fatto siamo peccatori. Ed è vero. Però voi capite che un conto che noi vediamo l'incarnazione in rapporto al peccato, allora uno dice, beh però di per sé allora, solo perché sono peccatore, però di per sé come uomo io non ho bisogno di Cristo. E no. Invece noi abbiamo bisogno di Cristo per essere uomini. Attentimelo, non ho detto per essere cristiani, per essere uomini. E da questo punto di vista ha ragione, e chiedo scusa, non so il nome, qual signore, no, che diceva, allora Gesù Cristo è venuto per essere l'esemplare di uomo. E di fatti vi citavo già la volta scorsa, cosa dice la Gaudium Espes? Dice Gesù Cristo è l'uomo perfetto. Cioè Gesù Cristo è colui, attenti bene, il primo a realizzare pienamente il disegno di Dio sull'uomo. Gesù Cristo è l'uomo pienamente realizzato. Perché è il figlio di Dio fatto uomo, ma realizzando l'identità dell'uomo in forma piena, secondo il disegno di Dio. Per questo la Gaudium Espes dice, Gesù Cristo è l'uomo perfetto. Per cui chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa lui pure più uomo. Non dice più cristiano, diventa più uomo. Che vuol dire figlio di Dio, che vuol dire quindi ovviamente fratello, perché se pretendi di essere figlio di Dio ma non vivi da fratello, vuol dire non sei per niente figlio di Dio. Quindi vedete che tutto quello che Gesù Cristo ci ha detto sull'amore, e sull'amore fraterno, rientra tutto esattamente qui. Figli e fratelli. Ecco allora, perché Dio si è fatto uomo? Perché in Cristo l'uomo possa diventare autenticamente se stesso. Cioè figlio di Dio. Ecco, io mi fermo qui. So che Don Davide vi lasciava qualche attimo, quindi dopo ti do subito. Potete respirare, perché capisco che non sono concetti così facili, quindi respirate, perché qualcuno non respira più, ecco, respirate pure, tranquilli, va bene? E poi... E poi... Potete anche parlare tra di voi, eventualmente. scambiarvi le impressioni per fare anche delle domande o obiezioni. Ecco, adesso possiamo dare inizio alla domanda. In merito alla morte in croce di Gesù, mi è sembrato di capire che se Gesù non avesse versato il suo sangue, diciamo così, la redenzione sarebbe stata meno efficace. Ho capito giusto? Si può dire così? Cioè, la morte in croce è stata necessaria per la redenzione? Cioè, non sarebbe stato lo stesso se Gesù fosse morto, che so, di vecchiaia o di morte naturale? Proprio bisognava che morisse in croce, eh? Grazie. Allora, i Vangeli, così come la Sacra Scrittura, non ragionano mai per ipotesi. Partono dai dati di fatto. Sta di fatto che Cristo è morto in croce, perché lo abbiamo ucciso. La fine è che la morte in croce non è una morte naturale. Quindi, ora, ecco che il Vangelo parte dai dati e si dice, perché? E allora rinasce la risposta. Non dice, ma se... Hai capito? Ora, io dico, in base anche alla famosa espressione Felisculpa, certamente la redenzione implicava che il Cristo si facesse carico del peccato del mondo, che lo portasse via, in qualche maniera, perché altrimenti continua a pesare. Ripeto, c'è una forma di quasi personalizzazione, vi dicevo, di personificazione del peccato, ma è una entità che ha una sua consistenza oggettiva e fino a quando non viene portato via è grave su di noi. Ecco, diciamo pure così. Quindi, in ogni caso, la redenzione implicava che da parte di Cristo venisse portato via il peccato, che si scaricasse su di lui. Ora, di fatto, storicamente, il peccato dell'uomo si è scaricato su Cristo quando l'uomo lo ha ucciso. Questo non vuol dire che ha voluto così Dio, assolutamente, l'abbiamo voluto noi questo. Piuttosto, è quello che Dio ha chiesto a Gesù Cristo, e lo fa capire anche Gesù, è che lui, venendo su questa terra, rivelasse il volto di Dio. dice Gesù, alla fine della sua vita, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini. Il nome è l'identità. Cioè, io ho fatto conoscere chi tu sei davvero, e cioè il Dio amore. Ma, ripeto, paradossalmente, il momento più grande in cui Gesù Cristo ha fatto conoscere il nome di Dio è stato proprio la morte in croce, perché non c'è amore più grande di questo, dare la vita. Ed è interessante che soprattutto il Vangelo di Giovanni gioca su questo duplice aspetto. E cioè, per un verso, la morte gliel'abbiamo data noi, lo abbiamo fatto morire noi. Ma nello stesso tempo, lui vive quel momento della morte come se l'avessi scelto lui. e cioè c'è quella dimensione della libertà, perché lui accetta e la fa propria, quella cosa lì. Non l'ha semplicemente subita. E chi è che mi fa capire, ad esempio, un piccolo, così, un piccolo segno o un'espressione che fa capire questo? Esatto. Chi cercate? Gesù Nazionale. Sono io. Ma soprattutto, attenti bene, secondo il Vangelo di Giovanni, che è molto acuto, quando il soldato passa a dare il colpo di grazia ai crucifissi, dice che appunto trafisse il costato, cioè diede il colpo di grazia ai due ladroni, ma visto che Gesù era già morto, e cioè il momento in cui Gesù muore, non lo decide l'uomo, lo ha deciso lui. Cioè questa dimensione, potremmo dire, di libertà, di farla propria, di viverla in prima persona, non solo subirla, però attenti bene, che cosa ha fatto nell'ultima cena attraverso l'istituzione dell'Eucaristia? non ha fatto nient'altro attraverso il segno del pane condiviso benedetto e il vino versato, non ha fatto nient'altro che spiegare il senso della croce. Prendete e bevetene tutto, questo è il calice del mio sangue versato per voi in remissione dei peccati. ecco quella lì è la croce. Non so se mi sono spiegato. No, 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 non sono concetti facili, guarda che le cose che mi hanno detto stasera sono più difficili. Se l'uomo è una creatura piccola, come fa a essere così forte il suo peccato, a essere così potente da far morire un Dio? Per me il peccato più grosso è quello di aver ucciso un uomo che è Gesù. E difatti appunto è il peccato dell'uomo che si è scaricato su di lui. Come era già prima? Ma cosa c'entra? Attenti bene che la morte di Cristo non l'ha deciso Dio e non rientra nel volere di Dio. Ma la sua volontà è, ve l'ho detto, manifestare il nome. Non è il fatto e beh ti chiedo scusa ma è così? Tu trovami trovami esattamente un testo nel Vangelo che si dice che è volontà di Dio far morire il suo figlio. Ma chi l'ha detto? Dov'è che sta scritto che deve pagare per noi? O meglio, o meglio scusate, noi possiamo trovare anche di queste immagini ma sono immagini che cercano di aiutarci a capire attraverso dei concetti umani il mistero più grande di noi della morte di Cristo. Appunto come redenzione dal peccato. Bisognava trovare qualche immagine. Allora qualcuno tira fuori il fatto del pagare un debito. ma tenete bene che sono immagini che non vanno mai materializzate perché altrimenti diventiamo blasfemi perché il giorno in cui noi diciamo che è Dio che ha fatto morire il suo figlio perché doveva pagare il peccato dell'uomo facciamo di Dio esattamente un disumano un mostro e grazie a Dio non è così. tra le tante il peccato non ha cambiato il piano di Dio ma ha modificato la modalità ma Dio non aveva previsto il peccato possibile? Cioè com'è? Allora nel momento stesso in cui Dio allora nel momento stesso in cui Dio ha creato l'uomo perché entrasse in relazione ad amore con lui come figlio non poteva che crearlo libero perché l'amore esige la libertà. Quindi se lo scopo della creazione è far sì che l'uomo entri in relazione d'amore con Dio partecipe della sua vita come figlio e quindi il rapporto d'amore di figliolanza non poteva che crearlo libero ma nello stesso tempo il momento in cui tu crei una creatura libera e che vive su questa terra hai già anche messo in conto che uno possa usare la libertà contro di te. e quindi ovviamente c'era anche la possibilità che l'uomo peccasse. E significativamente la Sacra Scrittura ci aiuta a capire attraverso il racconto del primo peccato qual è il dinamismo di tutti i peccati cioè quello lì è il peccato per eccellenza perché se ci badiamo bene tutte le volte che noi pecchiamo più o meno facciamo come Adamo e Eva perché se uno fosse convinto fino in fondo che quello che Dio gli chiede è il suo bene sarebbe da stupidi disobbedire invece perché disobbediamo perché non siamo del tutto convinti che il meglio sia proprio quello che Dio ci chiede ma forse ma perché forse secondo me si potrebbe invece provare diversamente e così ha fatto Adamo e Eva ma dietro questa decisione ci sta la mancanza di fiducia totale in Dio cioè non ci fidiamo più che quello che ci chiede è veramente il nostro bene guarda che è bellissimo quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni il capitolo 15 dove dice io sono la vita voi se uno rimane in me porta molto frutto e poi dice amatevi gli uni gli altri poi dice queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena avete notato non dice queste cose ve le ho detto per rendervi faticosa la vita per rendervi pesante la vita triste la vita no ve le ho dette queste cose perché la mia gioia sia in voi cioè che cosa vuole la fin fine Dio per noi la gioia e allora è per quello che ha inventato i comandamenti perché sapendo qual è la strada che ti porta alla serenità al compimento dice ecco vuoi davvero realizzare la vita ecco questa è la strada e invece noi i comandamenti li sentiamo come un peso come qualcosa di pesante e invece attendi la Bibbia loda Dio per il dono della legge perché capisce è che quello è un grande dono altri? io mi chiedo se il peccato ci porta alla morte giusto? ma ci porta alla morte nel senso che alla fine della nostra vita Dio non ci accetta per via del nostro peccato perché bisogna c'era di mandare suo figlio per redimerci dai peccati se è lui alla fine che dovrebbe giudicare la nostra vita in base se abbiamo peccato o meno cioè non capisco non riesco a collegare se è Dio che alla fine giudica bastava che dicesse vabbè sono buono vi li perdono è questo che faccio ho difficoltà a capire perché mandare il figlio per redimerci dal peccato ma è Dio che alla fine ci deve giudicare in base ai nostri peccati o sbaglio perché voglio che io sbagli allora quanto dici tu posso darti del tu Francesco quanto dici tu però rientra nella prima risposta e cioè l'incarnazione è motivo del peccato nella seconda prospettiva vedi che invece non è che Dio mandi Gesù per redimerci dal peccato ma Dio manda il suo figlio perché il suo progetto è che l'uomo diventi figlio nel suo figlio dopo dal momento che l'uomo ha peccato e questo figlio di Dio fatto uomo deve farsi carico anche del compito della redenzione tanto per capirci nel disegno originario di Dio ecco che Gesù ha il compito soprattutto del ricapitolatore cioè portare tutta l'umanità al suo compimento come figlio di Dio ma a causa della presenza del peccato non puoi farlo diventare figlio di Dio se appunto non lo liberi da questa situazione di contrasto con Dio soprattutto se non lo liberi da questa mancanza di fiducia nei confronti di Dio perché uno che non ha fiducia nei confronti di Dio il fatto che Dio lo porti con sé sarebbe esattamente la cosa peggiore che può fare visto che lui non si fida di questo Dio quindi la prima cosa importante è aiutarlo a capire che il concetto di Dio che ha in testa lui è quello di Satana è quello di Satana e vi ricordate il brano del Vangelo di Marco è molto interessante dove si dice che Gesù annuncia la sua morte e dice adesso andremo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto essere ripudiato dagli anziani e morire in croce e risorgere il terzo giorno e Pietro che lo prende in disparte dice Pietro lo rimproverò cioè Pietro dice a Gesù guarda tu queste cose non le puoi dire perché se sei figlio di Dio se sei il Messia come puoi essere perdente di fronte ai nemici e se sei figlio di Dio devi vincere sei tu che devi schiacciare i nemici non i nemici che schiacciano te ecco e Gesù gli dice vai dietro Satana vai dietro Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini ecco secondo gli uomini ecco che Dio è colui che schiaccia i nemici e premia i buoni e Gesù è venuto a dirci che Dio non è così perché Dio vuole bene a tutti ma per dire che vuole bene a tutti anche a quelli che lo mettono in croce accetta di lasciarsi mettere in croce pregando pregando per quelli che lo mettono in croce e quindi noi abbiamo che fare con un Dio che per amore dell'uomo si lascia mettere sotto i piedi questo è il paradosso ecco non so non so se mi sono spiegato per dire quindi è che il giudizio a parte che nel Vangelo si dice che il giudice è Gesù Cristo e non Dio Padre vabbè però al di là di questo il giudizio di Dio non può non tener conto della libertà dell'uomo e se appunto l'uomo non si fida di Dio e quindi non vuole stare con Dio il perdono di Dio non serve a niente quindi bisogna che l'uomo si convinca che invece Dio è un'altra cosa che la che la fortuna più bella dell'uomo poter stare con Dio ma questo glielo fa capire Gesù proprio paradossalmente attraverso la croce nel prologo di San Giovanni allora il passaggio dove dice a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio cioè in quelle quattro righe lì ricostruisce quel progetto e fa capire ecco la ringrazio per il fatto che mi permette di dire una cosa voi sapete che il concetto di predestinazione a causa soprattutto dei protestanti o meglio ancora di Calvino è diventato molto ambico perché predestinazione per i calvinisti o per Calvino vuol dire che Dio ha già deciso da sempre se tu ti salvi o non ti salvi punto e basta quindi tu per qualsiasi cosa tu faccia comunque hai già deciso tutto è una specie diciamo così di Cassandra che percepisce che c'è un fatto un destino che si realizza indipendentemente da te va bene e invece non è così la predestinazione come vi dicevo è semplicemente il fatto che Dio ha pensato ha progettato per l'uomo un destino cioè un fin uno scopo meraviglioso di vita di vita piena come figlio prima ancora che l'uomo ci fosse prima ancora che l'uomo lo meritasse per questo si chiama predestinazione ma quel progetto di Dio non si realizza senza la libera accoglienza dell'uomo quindi anche se quel progetto rimane così però se uno lo rifiuta è un progetto che per lui non si realizza adesso qui però comincio già a sentire qualcuno che dice e vabbè quelli che non hanno conosciuto Gesù abbiamo detto che abbiamo bisogno di Gesù Cristo per diventare uomini e per tutti i poveri cristi o i poveri diafoli cioè tutti gli altri uomini che non sono cristiani che non hanno conosciuto Gesù come la mettiamo eh voi cosa dite perché noi diciamo le cose però poi dice è compito dei cristiani annunciarlo farlo conoscere agli altri ecco allora prima di tutto questo per questo esistiamo noi cristiani per annunciare questo meraviglioso progetto di Dio a tutti ma attenti bene che c'è anche l'altra cosa e questo lo dice ancora una volta l'ha esplicitato perché c'era già ma l'ha esplicitato il concilio vaticano secondo e cioè sempre nella Gaudium Spes dice dobbiamo ritenere e attenti bene che quando un concilio usa questa espressione dobbiamo ritenere è quasi una specie non è un dogma però quasi una specie di dogma cioè dobbiamo crederlo dobbiamo ritenere che Dio dà a tutti la possibilità nei modi che solo lui conosce di essere associato al mistero pasquale di Cristo quindi vuol dire che Dio si serve di modi a noi sconosciuti per far sì che tutti gli uomini vengano a contatto con Gesù Cristo anche se in maniera magari inconscia a tematica non esplicita però noi abbiamo il compito di esplicitare quello che uno esperimenta dentro di sé senza sapere chi è il Salvatore perché Cristo è morto per tutti Cristo è venuto per essere il ricapitolatore di tutti non dei cristiani i cristiani sono quelli che devono annunciarlo ecco perché ha pienamente ragione quando dice a quelli che lo hanno accolto dato il potere diventare figli di Dio ma che non significa i cristiani ma significa tutti quelli che in qualche maniera nel modo che Dio conosce lo hanno accolto ad esempio attraverso la propria coscienza attraverso appunto le vie che noi non siamo in grado di percepire al limite anche attraverso la loro religione che non è quella cristiana perché se uno vive onestamente la sua religione pensando che quella lì appunto è la religione che piace a Dio e in coscienza lo vive e fa il bene e non fa il male questo vuol dire che in quella maniera lui ha accolto il figlio di Dio nella mentalità di oggi che si pensa appunto di dire ma tanto Dio è buono Dio ci salva e Dio viene un po' il pensiero di dire vabbè io sono una brava persona perciò non ho bisogno di credere se non faccio la brava persona il Signore mi dà la possibilità di salvarmi ugualmente come appunto chi non lo conosce può arrivare ugualmente alla salvezza grazie al sacrificio di Cristo allora io risponderei semplicemente con il testo del giudizio finale di Matteo 25 ricordate ecco che alla fine dei tempi il figlio dell'uomo che è Gesù apparirà sulle nubi del cielo e saranno riunite tutte le genti e lui porrà i capri a sua sinistra e le pecorose a sua destra poi dirà agli uni venite benedetti dal padre mio gli altri andate via maledetti ma su che cosa siamo giudicati avevo fame mi avete dato da mangiare avevo sete mi avete dato da bere quindi attenti bene che in pratica questi vivono da figli e fratelli cioè vivono da fratelli e se vivono da fratelli vuol dire che hanno riconosciuto di avere lo stesso padre ed è significativo che in quel brano questi anche gli eletti dicono ma quando è che ti abbiamo visto affamato assetato e lui quindi attenti bene che questi hanno amato senza sapere che negli altri c'era Gesù potremmo dire non erano cristiani cristiani però hanno amato e quello che conta è che abbiano amato e Gesù dice tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me ecco perché è il criterio ultimo di salvezza non è il fatto della fede esplicita in Gesù ma il criterio ultimo è l'amore fraterno perché l'amore fraterno ecco che è già una forma di accoglienza del progetto di predestinazione di essere figli nel figlio ci sono persone che si reputano atee e ne conosco anch'io e pensano che l'uomo possa bastare a se stesso e che non vi sia alcun dio queste persone però e proprio quelle che conosco io si comportano davvero bene con il prossimo credo che anche queste allora meritino la salvezza allora di per sé nessuno merita la salvezza perché la salvezza ce l'ha meritata Gesù Cristo però noi usiamo hai ragione usiamo questa espressione che non è sbagliata scusa troppo velocemente ti ho detto che nessuno merita perché invece dal momento che c'è l'apporto della libertà possiamo dire che è tutto un merito di Cristo ma anche merito nostro perché noi abbiamo messo la nostra libertà quindi sia pure come risposta alla grazia di Dio però anche noi ci abbiamo messo del nostro quindi possiamo parlare da questo punto di vista di merito e a luce a luce di quanto diceva lei mi pare che sia molto significativo quello che dice la prima lettera di Giovanni chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio perché Dio è amore quindi anche se uno è ateo però effettivamente onestamente ama questo è nato da Dio e conosce Dio questa è la parola di Dio oh attenti bene che poi si può meglio ascoltare prima voi perché se no parlo sempre mi ricordo mi ricordo un passaggio nel Vangelo che lei lo sopra bene ecco sarà io ho vagamente che Dio ci dice ci sono due possibilità per non andare a avere la salvezza una è non crederci dunque l'altro se non crede come può andarci sì sì ma attenti attenti bene è che il giudizio su chi crede o chi non crede lo dà solo Dio perché solo Dio vede nel cuore e se permettete nella mia vita di prete io ho incontrato dei credenti che pensavano essere credenti e che secondo me erano atei ho incontrato degli atei che pensavano essere atei e che invece erano credenti no semplicemente andando un po' più in profondità no perché ad esempio io ho incontrato un ateo che mi dice guardi io non posso accettare un Dio che si diverte a far morire i bambini e io ho detto io la penso come lei quindi sono ateo come lei perché un Dio così non esiste cioè il motivo del suo ateismo era il rifiuto di un Dio così ma appunto questo Dio non esiste e quindi è inutile che lui mi dica che non crede in questo Dio perché questo Dio non esiste piuttosto io gli annuncerò il Dio di Gesù Cristo che è ben diverso quindi adesso guardi che quello che dice lei è molto vero Gesù dice che non si può essere salvi senza la fede però attenti bene che chi ha veramente la fede alla fin fine solo Dio lo può dire noi non possiamo mica dirlo perché in pratica noi possiamo semplicemente constatare l'esteriorità loro possiamo dire uno va in chiesa va bene questo non va questo fa un'opera buona questo fa un'opera cattiva fino a qui ci fa bene però dire che cosa c'ha nel cuore colui che opera bene o colui che opera male noi non siamo mica capaci di dirlo per questo Gesù dice non giudicate e non sarete giudicate siamo pronti per andare a dormire ecco può darsi che l'anno prossimo ci vediamo ancora va bene grazie arrivederci grazie